Musica Sabato 20 settembre, Sante Ostacchio, è il 263esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 102 al termine. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 19.13, la luna leva alle 3.15 e tramonta alle 17.12. Mentre tra le mura la carestia comincia a far sentire i suoi effetti, i veneziani sferrano l'ultimo assalto alla città di Verona tenuta dalle truppe imperiali comandate da Marcantonio Colonna e la conquistano. Le previsioni per domani, schierite e alternate ad annuvolamenti più frequenti a partire dalle ore centrali, durante le ore più fredde diffuse foschie e qualche probabile nebbia, nubi basse in pianura e in qualche fondovalle. Fino a parte della mattinata precipitazioni assenti, in seguito graduale aumento della probabilità di precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio temporale, temperature senza variazioni di rilievo. Fino a parte della mattina Fino a parte della mattina Fino a parte della mattina